Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre con gli amici italiani e con un amico giapponese che parla l'italiano, parla italiano, ho detto io ora fa finta però parla l'italiano Ok, siamo qui nel ristorante di sushi che stiamo mangiando appunto sushi, tutto molto buono come sempre sono già stati in questo ristorante, questi sono quelli che ho preso io ma adesso mi arrivano anche gli altri guardate, l'avete già visto questo ristorante sicuramente, ve l'ho già fatto vedere Molto buono, sushi che si possono ordinare anche tramite il menù che è qui Com'è, è squisito? E' buono? Ti piace? Oishides? Adesso lo mangio, adesso lo mangio Adesso assaggio anche il sushi Tonno in varietà di grasso Allora, tonno? Qual è il tonno? No, questo è il tonno in varietà di grasso, cioè medio super grasso, normale Quindi è più morbido, più duro Ottimo Adesso assaggio, questi qui sono mezzi caldi Mi è arrivato anche il resto per me Ora assaggio anche anch'io i miei sushi che ho preso, guardate Allora, prendo, assaggio questo Tutto molto buono Ora mi dico com'è So già che buono, quindi poter lo vado di cappare Intanto l'ho rotto, ho risotto un po' fin, un po' il pezzo Adesso prendo perché l'ho spaccato troppo Guardate che danno che ho fatto Ho rotto il sushi Tu l'hai finito? Va bene, vi saluto così, mangio con calma Perché sono anche nello stretto Volevo farvi vedere questo ottimo sushi che ho preso Guardate che lingua di pesce Che c'è, che danno su questo ristorante I miei amici sono impegnati a parlare Quindi io vi saluto, qui vi staranno E faccio la cena e poi vediamo come sapere dopo Ciao ciao